Sì, ciao ragazzi, ciao popolo del fumetto, ma oggi non si parla di fumetti ma su grande richiesta continuo questo mio percorso che sto facendo con Stephen King che sto leggendo i libri diciamo dagli albori in ordine cronologico quindi sono arrivato a Cuyo e come al solito cercherò anche di farvi un consiglio tra libro e film ovviamente si dice sempre meglio il libro del film, posso dire che confermo questa teoria anche se comunque ho visto il film senza aspettarmi molto perché il film l'avevo visto molti molti anni fa ero praticamente poco più che un bambino e non mi aveva colpito molto tant'è che avevo la videocassetta in casa ma non ho mai avuto quella voglia di rivederlo ma se devo essere sincero l'ho guardato molto volentieri oggi e ho anche voglia di rivederlo purtroppo l'ho dovuto noleggiare perché sono film molto difficili da reperire penso che si possa anche guardare su YouTube, non so se in inglese o addirittura in italiano e comunque è un film che mi è piaciuto vedere anche perché comunque dopo che si legge un libro è sempre bello comunque vedere proiettarsi quello che ti immaginavi se è fedele diciamo al libro se ci sono delle differenze posso dire che Stephen King ha descritto così bene queste situazioni che il fatto di aver visto il film non mi ha dato ulteriori spunti diciamo che è un libro che è molto assimilabile, molto facile da comprendere non è per niente incasinato anche perché i protagonisti alla fine si ha a che fare con 6, 7, 8, non più di 10 persone io credo, quindi le situazioni non sono tantissime perché si sviluppano tra due famiglie che sono i Trenton e poi la famiglia del meccanico che sono i Camber e quindi penso che sia già abbastanza risaputo qual è il tema del film questo San Bernardo, questo cuio che viene morso da un pipistrello prende la rabbia e da qui si trasforma in un'arma, in un assassino e ostaggi di questo aguzzino, di questo cane idrofobo saranno Donna Trenton cioè la moglie di Vic Trenton e il figlio Teddy e quindi per due giorni verranno braccati, verranno assediati da questo cane non vi dico come andrà a finire l'unica differenza è proprio, si può dire di questo film con il libro è proprio il finale, c'è qualcosa di diverso io ho apprezzato leggermente di più quello del libro perché è più coraggioso, mettiamola così che altro vi posso dire del libro di King? allora, nella mia, io l'ho letto con la ristampa Pequic perché io cerco sempre di recuperare i libri quelli vecchie edizioni non è facile, anche perché ho scoperto, andando anche in un magazzino dall'usato che c'erano un sacco di libri mi ho detto, ma i libri di Stephen King e la signora padrona del negozio, del bazar, magazzino mi fa, no no, quelli me li tengo io devo proprio dire che i kingdiani sono proprio come una categoria, un po' come i dilandoghiani cioè proprio come una sorta di piccola religione hanno, King ha proprio un pubblico che è molto fedele e posso capirli, anche perché praticamente pian pianino sto diventando un kingdiano anch'io, io gli ho scoperto King tramite i suoi film ma adesso ne voglio sapere molto di più perché è un libro uno più bello dell'altro vengo da Uscita per l'Inferno che posso dire che mi è piaciuto molto molto di più ma questo qua rimane un buon libro come anzi proprio di tradizione kingdiana posso dire perché le prime 150 pagine su 400 servono proprio per entrare nella psicologia dei personaggi e dopo di che si può dire che le ultime 200 pagine diventa pura tensione e posso dire che la tensione percepita nel libro è stata fortemente maggiore di quella del film e questa è una cosa molto buona perché solitamente la tensione nel film è sempre aiutata dalle musichette insomma proprio dal sonoro invece no, posso dire che le ultime 200 pagine è pura tensione e poi tra l'altro nel libro si capta ancora meglio proprio quella tensione si percepisce, mannaggia ma è proprio destino perché le situazioni che perché in poche parole la casa non è più frequentata in una zona di campagna quindi non transita nessuno quindi succedono delle cose tipo il postino che dovrebbe passare ma non passa perché il meccanico aveva avvertito che andava via qualche giorno eccetera eccetera ecco ci sono tutte queste situazioni che nel libro proprio vengono amplificate dire dai che adesso li salvano ma non arriva mai quel momento che qualcuno va a controllare la fattoria dei camper anzi l'officina dei camper un'altra cosa che mi è piaciuta molto della storia rispetto al libro è proprio come vivono le due famiglie la famiglia Trenton e soprattutto la famiglia di Jocamber dove si vede questa famiglia del meccanico che è molto patriarcale molto mi viene un po' in mente quelle famiglie arcaiche di campagna dove c'è il padre padrone la moglie è succube del marito ecco e quindi ricordiamo è una storia che è ambientata nei primi anni anni 80 penso che il film sia dell'81 dell'82 è vecchio come me tra l'altro non sarebbe un film non sarebbe un libro attuale una storia attuale perché bastava il telefonino se ci fosse stato il telefonino tutta questa pantomima non ci sarebbe stata però ripeto è una storia che ho voluto sia a leggere ma che a rivederla con il film e posso dire che comunque il film l'ho rivalutato perché ho proprio voglia di riguardarmelo una seconda volta per proprio vedere Kuyu agli occhi ecco perché è la cosa che ho sofferto ecco che non sono proprio riuscito a immaginarmi bene dal libro è proprio vedere un cane con la rabbia ecco il fatto di aver dal momento che non l'ho mai visto ecco vederlo con gli occhi è stato per me proprio una goduria quindi ragazzi io continuo insistere di scoprire il magico mondo di Stephen King con i suoi libri o perlomeno con il cinema che c'è meno fatica meno sforzo mentale ecco degli ultimi tre libri che ho letto l'incendiaria e uscita per l'inferno posso dire che si colloca in seconda posizione se devo fare una classifica lo reputo leggermente meglio di dell'incendiaria che parte subito con un bel ritmo a un certo punto un po' si addormenta e il finale è un attimino prevedibile mentre uscita per l'inferno proprio è stata una goduria dall'inizio alla fine dove mi sono innamorato proprio della caduta libera del protagonista ma questa è un'altra storia altri spunti che posso dire sì ci sarà anche una situazione dove la la moglie di Trenton che poi praticamente è la protagonista del del libro ha una relazione extra coniugale che interrompe proprio nel corso del libro e qua ci saranno degli importanti sviluppi è anche diciamo diverso il momento in cui si scopre il tradimento perché nel film è il marito che scopre che intuisce il tradimento mentre nel libro è proprio l'amante che per ferito del suo come si può dire narcisismo che non si aspettava che la moglie troncasse la la relazione extra coniugale si sente ferito e quindi lo rivela con uno stratagemma al marito a Vic quindi è tutto io vi invito proprio a recuperare comunque questo libro che poi da quello che ho letto nel forum di facebook di Stephen King sembra che è anche uno dei più amati mentre il film non è gradito affatto io invece lo salvo ecco non è un capolavoro ma ecco io sky cinema vedo tante di quelle schifezze che un filmettino così invece l'ho guardato benché volentieri ciao 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 ciao